Approvata la legge per il terzo settore Sara Zambaia Lega è la nuova presidente della Commissione Sanità 600 anni del drappò gruppi storici e folcloristici alla reggia di Venaria Reale Nuova edizione di Consiglio News ben trovati Via libera la legge per il terzo settore Riconosciuto un ruolo centrale al volontariato e agli altri enti senza scopo di lucro Gli enti del terzo settore potranno essere coinvolti dagli enti locali a coprogrammare e coprogettare interventi nell'ambito delle materie di competenza regionale e potranno sottoscrivere convenzioni e patti di accreditamento a favore di terzi Questo è l'obiettivo della legge, affirma Monica Canalis, Partito Democratico approvata all'unanimità dal Consiglio regionale Tra le novità previste, l'istituzione della consulta regionale del terzo settore il cui compito è esprimere pareri e formulare proposte alla Giunta e al Consiglio regionale in materia di terzo settore, promuovere iniziative di sensibilizzazione ed altro Viene inoltre istituita la giornata regionale del volontariato da celebrare il 5 dicembre di ogni anno in concomitanza con la giornata internazionale È un momento di grandissima gioia per le migliaia di volontari anche di lavoratori che operano nelle nostre organizzazioni di volontariato associazioni, società di mutuo soccorso, cooperative In Piemonte veramente questo mondo è molto grande ed è ricco di esperienze che danno tantissimo alla nostra comunità L'assessore alle politiche sociali Maurizio Marrone che per la Giunta ha proposto diversi emendamenti al testo ha sottolineato che il terzo settore è un sistema irrinunciabile per affrontare le sfide del presente e del futuro L'approvazione di questa legge sul terzo settore dimostra proprio la sensibilità e l'attenzione politica della Giunta e della maggioranza oltre che della minoranza quindi anche una positiva convergenza nel riconoscere il grande contributo che il volontariato, l'impresa sociale, la cooperazione portano al soddisfacimento di bisogni fondamentali di cittadini soprattutto dei più fragili e più deboli Il capogruppo della Lega Alberto Preioni dichiarando il voto favorevole del proprio gruppo ha precisato che il Piemonte è tra le regioni italiane che vantano più associazioni del terzo settore Il consigliere Maurizio Marello, Partito Democratico ha evidenziato l'importanza di un provvedimento che mira un riconoscimento di un settore che da decenni svolge funzioni sociali importantissime La consigliera della Lega Sara Zambaia è la nuova presidente della Commissione Sanità Il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasi ha presieduto mercoledì pomeriggio la riunione della Commissione Sanità per l'elezione del nuovo presidente in sostituzione di Alessandro Stecco dimessosi dalla carica di consigliere regionale dal primo marzo La votazione a scrutinio segreto ha assegnato 16 voti su 19 a Sara Zambaia Lega Un grandissimo onore ringrazio innanzitutto il mio gruppo ovviamente il presidente Stecco perché ha lasciato quasi al termine una Commissione che ha lavorato veramente tantissimo in questi cinque anni è stata in assoluto la Commissione più attiva forse anche più attiva rispetto alle legislature precedenti ma perché complice il Covid e complice tutta l'attività di programmazione abbiamo veramente veramente lavorato tanto L'ufficio di presidenza della Commissione è formato ora dalla presidente Zambaia e dai due vicepresidenti Andrea Cane, Lega e Domenico Rossi Partito Democratico Medicine usate come droghe un'allarme sociale sempre più diffuso soprattutto tra i giovani al centro del Question Time che il consigliere Silvio Magliano Moderati ha rivolto all'assessore alla sanità Luigi Icardi Come contrastare il crescente fenomeno dei farmaci assunti come droga? Questo l'interrogativo che il consigliere Silvio Magliano Moderati ha rivolto all'assessore alla sanità Luigi Icardi nell'ambito dei Question Time Si sta sempre più diffondendo soprattutto tra i giovani l'abitudine di assumere farmaci antiepilettici antidepressivi associati ad alcolici con gravi problemi di dipendenza e sintomi di astinenza oltre al rischio di overdosa I primi sequestri risalgono in Piemonte allo scorso gennaio così come i casi di falsificazioni di prescrizioni medica I medicinali utilizzati non sono in libera vendita al pubblico ma soggetti a ricetta ha puntualizzato l'assessore Icardi La regione ha comunque avviato quattro progetti per contrastare il fenomeno Neutravel che prevede un'unità mobile per analizzare i principi attivi di farmaci e sostanze garantendo l'anonimato ai ragazzi il centro regionale di attività di promozione della salute e il piano di prevenzione regionale due progetti rivolti alle scuole che hanno l'obiettivo di sensibilizzare i ragazzi sui rischi di uso e abuso di sostanze infine il progetto Unplugged che vede la regione Piemonte quale soggetto capofila in un programma scolastico per la prevenzione dell'uso di tabacco alcol e sostanze tra gli adolescenti La storia casbugia gruppi storici e folcloristici alla reggia di Venaria Reale Sono 130 i gruppi che domenica scorsa nella citroniera della reggia di Venaria hanno sottoscritto il primo registro regionale dei gruppi folcloristici e storici del Piemonte L'evento che si è svolto nell'ambito delle celebrazioni per i 600 anni del drappò ha visto la partecipazione di oltre mille figuranti provenienti da tutte le province piemontesi e ha rappresentato un importante momento di aggregazione e di valorizzazione della tradizione e della cultura del Piemonte Sono più di 130 gruppi che hanno aderito e hanno voluto partecipare partecipato a questa giornata un giorno storico per il Piemonte perché ufficializziamo il registro dei gruppi storici e folcloristici della regione Piemonte per dare rappresentanza a tutti e far capire veramente che c'è una vicinanza dell'ente regionale a tutto il territorio piemontese Noi siamo delle pagine di storia vivente facciamo vedere quello che tanta gente vede nei film in televisione venendo con noi venendo tra di noi si possono apprezzare le cose dal vero e capire una volta come erano queste battaglie e come era la vita all'epoca Il Piemonte fa cultura con la ricostruzione storica con i carnevali ed è giusto che le istituzioni se ne accorgano perché è un grande valore aggiunto che il Piemonte porta e non solo in Italia ma anche in Europa per cui è un grande momento Sono state numerose le iniziative del Consiglio regionale in occasione della giornata internazionale della donna tra queste il premio Marcellina Gilli conferito a tre ricercatrici dell'Università degli Studi di Torino Beatrice De Marchi archeologa biomolecolare Valentina Fusari storica dell'Africa e Valentina Sola fisica sperimentale sono le tre ricercatrici dell'Università degli Studi di Torino che si sono aggiudicate il premio Marcellina Gilli 2024 il riconoscimento istituito nel 2020 dalla consulta femminile regionale alla cerimonia di premiazione tenutasi negli spazi della biblioteca del Consiglio regionale del Piemonte a Torino sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Stefano Allasia e il consigliere segretario Gianluca Gavazza Il premio Marcellina Gilli di solito viene conferito dalla consulta femminile e dal Consiglio regionale del Piemonte ad un personaggio femminile del Piemonte che si sia contraddistinto nei vari campi della scienza dell'imprenditoria dell'arte e della cultura quest'anno però abbiamo scelto di darlo a tre ricercatrici che in ambiti diversi hanno vinto un progetto dell'Università di Torino sono sicuramente delle giovani che sono di lustro per il nostro Piemonte La scienza declinata al femminile funziona e vincente la regione Piemonte ce lo riconosce quindi per me è veramente un doppio successo Noi donne possiamo dare tanto alla scienza ed è giusto prenderci i nostri spazi E' importante fare in modo che le istituzioni ci supportino e quindi siamo contenti Tra le altre iniziative per celebrare la giornata internazionale della donna fino al 29 marzo all'URP del Consiglio regionale saranno esposti i manifesti di Monumenta Italia un progetto di arte pubblica a cura di Lisa Parola e Thea Taramino e dell'associazione fermata da autobus che si interroga sull'esiguità dei monumenti dedicati alle donne nelle nostre città In parallelo negli spazi dell'associazione culturale Re Contemporary in via Gaudenzio Ferrari 12 saranno in mostra fino al 28 marzo le video opere dell'artista Irene Pittatore come strumento di riflessione sulla scarsa presenza delle donne nello spazio pubblico e come spunto per incontri e laboratori Il nostro obiettivo è quello di far conoscere rendere condiviso questo dato per sviluppare consapevolezza di questa invisibilizzazione pensando a forme più attuali più aperte più inclusive di monumento Per questa edizione è tutto prima di salutarvi vi ricordo che sul sito cr.piemonte.it trovate notizie e aggiornamenti sull'attività del Consiglio regionale del Piemonte Arrivederci Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti